eccomi qua ciao a tutti oggi faccio le pulizie un po più approfondite ho tirato fuori la mia spirapolvere quella che faccio una pulizia perché perché con la scopa elettrica non riesco a pulire il batte scopa mi manca quel pezzo qua praticamente oggi voglio pulire con la polvere con la poltetta così oggi pulisco quel bene poi un'altra cosa che volevo dirlo che mi piace prendermi in giro ecco se qualcuno non ha capito come ci ho fatto io ecco le cose che dico vi dico sul serio ma c'è quel lato fuori e niente adesso facciamo incomincio con una camera intanto incomincio con la camera da letto adesso devo mettere l'acqua dentro la vaporetta intanto incomincio a pulire la camera da letto poi andiamo con un'altra camera e appienino pulisco tutti i movimenti oggi ecco qua a e a a a a Grazie. 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 è pulito potete chiamare un metodo che funziona con la monieca ah con la monieca funziona perché guarda qua ma è pulito e sono oggi massimo ho già dato abbastanza oggi ciao ciao buona serata a tutti